Oggi torniamo, amici, a parlare di grande sport, in particolare di MMA a Sorso. Sì, un evento che sarà il 9 dicembre presso il palazzetto di Via Dessì a Sorso. Lo Spartan GP si ripete come la prima edizione, l'anno passato ci ha visto con un grande afflusso di pubblico. Un'edizione ancora più ricca rispetto all'anno scorso, avremo grossi talenti isolani opposti ai migliori talenti italiani. Avremo personaggi del calibro di Iba, Chessa, Marogna, finalmente il rientro di Marco Marras e tantissimi altri che provengono dalle più blasonate scuole italiane. Uno sport che ormai sta prendendo sempre più piede, fortunatamente. Assolutamente sì, stiamo cercando di creare un gruppo compatto che ci spinga, soprattutto oltre mare, facendo vedere che l'atleta sardo di per sé non ha niente da temere a tutto il resto dell'isola. Anche le istituzioni, in particolare il Comune di Sorso, ha capito l'importanza di questo evento e infatti quest'anno cambiate location. Assolutamente, quest'anno stiamo spingendo un sacco sul nostro territorio, il Comune di Sorso ci sta dando una grossissima mano, anche la Proloco Sorso soprattutto ha investito su di noi e stiamo cercando di spingere perché non deve essere più uno sport di micchia, ma deve essere facilmente arrivabile a tutto il pubblico. La cosa bella è che avete creato una grossa partnership con uno dei colossi in Sardegna delle M&M. Sì esattamente, da quest'anno iniziamo a subentrare nel circuito del Colosseum, grande partnership con il suo presidente che è Gianmario Mereo, grossa opportunità che ci può lanciare in palcoscenici molto più grandi. Gianmario Mereo, ben trovato, il Colosseum quindi sta diventando oramai un circuito vero e proprio e quindi può offrire una grossissima visibilità ai suoi atleti. Sì, grazie appunto all'unione di intenti con vari collaboratori siamo riusciti appunto a creare varie tappe, sempre sotto la sigla Colosseum, per poter avere proprio un ranking tutto nostro, tutto sardo, tutto interno, per poter poi ambire a una cintura che sarà appunto la sorpresa, l'innovazione già dalla prossima data del Colosseum, dove ci sarà appunto un Colosseum Top Fighter e quindi niente, abbiamo iniziato per scherzo, ti ricordi cinque anni fa dove tu appunto eri uno dei pilastri e adesso niente, è diventato una realtà, abbiamo il nostro circuito, abbiamo i nostri eventi e... Arrivando oltretutto oltre mare. Sì, quest'anno grazie all'aiuto di Gigi Tedogli che è un carissimo amico, nonché collaboratore, siamo riusciti appunto a portare il Colosseum oltre mare, quindi abbiamo sbarcato anche fuori dalla Sardegna, abbiamo fatto una tappa all'onato del Garda e niente, tutte le varie tappe creano punteggio per gli atleti e poi appunto ci sarà un ranking e i primi cinque combatteranno per la cintura che sarà appunto la ciliegina sulla torta del nostro movimento. E allora ci diamo appuntamento per il 9 dicembre a Sorso, pagina Facebook Spartan GP.